Ben ritrovati con l'approfondimento del mattino di Antenna Sud, vado a presentare subito l'ospite che abbiamo in studio e che torna, così come un anno fa, l'avvocato Antonio Andrisano, ben trovato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Dicevamo torna perché proprio un anno fa con lui nell'approfondimento mattutino abbiamo parlato della giornata mondiale della libertà di stampa, in luce anche delle nuove leggi in vigore per la presunzione di non colpevolezza, è un anno di distanza. Faremo adesso il punto su questo tema, ma prima apriamo una parentesi di cronaca con un'ultima ora proveniente dal Tarantino. Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri della compagnia di Massafra, supportati dall'unità antidroga del nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica Locale nei confronti di 8 persone, 4 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, a cui si aggiungono ulteriori 6 persone indagate in stato di libertà, presunte responsabilità a vario titolo di acquisto, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto è stata condotta dalla liquidooperativa della compagnia dei carabinieri di Massafra con sistemi tradizionali come servizi di osservazione, pedinamento e analisi e mediante sofisticate attività tecniche ed ha permesso di acquisire gravi indizi di reato in merito ad una presunta attività illecita che avrebbero commesso diversi soggetti, i quali in concorso tra loro, rifordendosi da canali tarantini localizzati nel doto rione Tamburi, avrebbero creato una rete di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rivolta a una vasta platea di acquirenti nei comuni di Massafra e Crispiano, questa l'ultima ora arrivata proprio pochi minuti fa dal comando dei carabinieri di Taranto. Allora Avvocato abbiamo parlato di cronaca, abbiamo parlato di notizie e un po' si lega a quello che dicevamo, al tema che stiamo trattando appunto in particolare sulla presunzione di non coppevolezza con queste novità che sono entrate in vigore un anno fa a un anno di distanza, iniziamo a tracciare prima un bilancio, magari ricordando anche quali sono queste novità per chi magari col passare del tempo fossero sfuggite. Sì, grazie direttore. La sua introduzione è stata sicuramente la più appropriata proprio per aprire ad un tema così delicato ed è proprio nel momento in cui viene data una notizia che ha sicuramente una rilevanza pubblica e l'opinione pubblica ha diritto di essere informato, c'è sempre il problema del bilanciamento naturalmente con il diritto di colui che in questo momento viene ad essere indagato ed eventualmente attinto di una misura cautelare ad essere considerato innocente fino ad una sentenza definitiva. Questo è un problema di natura culturale evidente ed è un problema di natura culturale che ci trasciniamo da tempo e già secoli addietro Beccaria, grande Beccaria, diceva che si poteva parlare del reo soltanto quando vi era una sentenza definitiva. A riprova che si è fatta tanta strada in ragione di alcuni principi che però devono costituire il nostro fondamento e che sono il fondamento anche della Costituzione, perché io lo voglio ricordare, molti di noi lo sanno, la nostra carta costituzionale che è sicuramente una delle più belle dita del mondo, soprattutto per i suoi 12 principi di carattere generale, è sicuramente una carta costituzionale che si ispira a principi fondamentali tra i quali quello della presunzione d'innocenza, della quale già si parlava in sede di Assemblea Costituente. Vi è stato un lungo percorso, conosciamo bene, conoscete bene, perché io parlo da avvocato e quindi da mediatore sociale della giustizia, perché l'avvocato altro non è, l'avvocato nel momento in cui viene ad essere chiamato a difendere l'imputato, lui difende la collettività. Vede direttore, questo nella consapevolezza che chiunque di noi domani potrà essere iscritto nel registro degli indagati e quindi è per questo che il ruolo dell'avvocato, il ruolo della difesa è fondamentale, così come è fondamentale il ruolo naturalmente del cosiddetto quarto potere, quarto potere che ha una forza di pressione importantissima, in alcuni momenti pesantissima sull'opinione pubblica, ma ancora più importante è il potere della giustizia che deve poi giudicare i singoli casi. E allora, dopo, per diversi anni l'Italia è stata tacciata di ritardo anche rispetto ad una direttiva europea che sollecitava determinati principi e che invitava tutti gli Stati membri a voler prendere una posizione proprio in merito a quella che viene definita come presunzione di non colpevolezza o presunzione di innocenza, che tra l'altro è uno dei principi che abbiamo imparato nelle prime lezioni di giurisprudenza quando chi come me ha deciso di prendere giurisprudenza e poi naturalmente ha proseguito con gli studi. E quindi si giunge, dopo un percorso a volte e travagliato dopo vari ricami, dicevo poc'anzi a questo decreto legislativo che ha compiuto da poco un anno, che aveva grandi aspettative, che ha risolto in parte alcuni problemi, ma che altri ne ha lasciati risolti. Vede perché? Uno dei problemi fondamentali, non solo a mio sommesso avviso, ma anche di autorevole dottrina, di tanti magistrati, di tanti professori universitari, cattedratici che sono intervenuti sul tema, uno dei limiti del decreto legislativo è proprio quello di rivolgersi soltanto e di aver legiferato, regolamentato i rapporti con particolare riferimento alle procure della Repubblica, lasciando invece inalterato quello che è attualmente un sistema ancora poco regolamentato del rapporto nella gestione della notizia per quanto riguarda proprio chi, come lei, naturalmente vive di questo lavoro, fa questo lavoro e come è giusto che sia la gente, le persone, la popolazione, chiunque questo sia, il cittadino ha diritto naturalmente di essere informato e da allora è necessario trovare questo punto di equilibrio. Vede, mi è successo proprio a volte i casi di natura personale che vivi come difensore, proprio all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo fu arrestato, naturalmente la persona per alcuni reati gravi che sicuramente in un tempo immediatamente precedente avrebbero avuto, come si usò a dire, l'onore delle cronache, ma nell'immediatezza successiva all'entrata in vigore del decreto e anche in una fase in cui ancora non si era in grado di capire come doversi muovere, di quella notizia non si ebbe mai notizia di quell'arresto, ripeto, per reati sicuramente anche allarmanti sotto il profilo sociale e che forse avrebbero meritato, devo dire che pian piano vi sono state varie circolari di vari procuratori della Repubblica e di vari tribunali, ricordo Milano e quant'altro, che hanno dettato delle direttive perché oggi, come mi permetto di ricordarle, spetta in capo e in capo al procuratore capo della Repubblica deve stabilire quali inchieste, notizie giudiziarie, quali investigazioni, quali iniziative giudiziarie meritino di essere naturalmente passate al vaglio dell'opinione pubblica e quindi meritino una sorta di pubblicità. Ci sono due elementi in funzione dei quali deve effettuare questa valutazione del procuratore capo. L'uno è l'utilità sotto il profilo investigativo per la prosecuzione delle indagini e l'altro è l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia. Ancora, questo deve avvenire mediante dei comunicati, le conferenze stampa sono state ridotte notevolmente. Un segnale, io naturalmente do delle pillole perché se entriamo nel merito della procedura potremmo… Un segnale importante è stato quello di evitare che inchieste anche importanti vengano denominate, venga loro dato dei nomi che siano già di per sé sentore, indice quasi di una colpevolezza. In passato ricorderemo grandi inchieste con dei nomi che sicuramente nell'opinione pubblica non suscitavano un'idea di presunzione di non colpevolezza. Quindi da questo punto di vista devo dire che va tutto bene. Alcuni procuratori capo sono intervenuti in proposito, se non sbaglio, non voglio sbagliare, anche Milano che è sicuramente una delle procure della Repubblica più importanti in Italia, ritenendo però che fosse poco opportuno e che sia poco opportuno consegnare il potere, questo potere quasi discrezionale, in capo al procuratore capo relativamente alla facoltà di decidere se quella determinata indagine, se quella determinata operazione meriti o meno di naturalmente dover essere passata all'attenzione dell'opinione pubblica, in una determinata fase delicatissima. Avvocato, questo che ci spiegavano e che noi abbiamo vissuto ovviamente dall'altra parte dell'informazione, sicuramente ha limitato la comunicazione da parte delle forze dell'ordine, il passaggio, come diceva lei giustamente, dalla procura che dà il mandato della gestione pratica della diffusione di queste notizie, però ha anche aperto uno spazio di una presenza anche molto più importante e anche informativa proprio degli avvocati, che hanno un ruolo adesso anche più centrale nello spiegare, nel far conoscere determinate situazioni. Adesso le faccio vedere un servizio di cronaca di oggi, andiamo nell'Eccese a Casarano, nell'accusa di stalking nei confronti di un uomo, dove proprio c'è la presenza e le dichiarazioni del suo avvocato, proprio per rendere l'esempio di questo ruolo sempre più importante, che quindi adesso rappresentano anche gli avvocati e gli avvocati difensori. Ascoltiamo il servizio di Paolo Franza. Pressioni morbose e continue nei confronti dell'ex fidanzata, arrivando addirittura ad architettare uno stratagemma per poterla vedere, ovvero fingersi un santone ed inviare un messaggio da un'utenza straniera, sostenendo di aver ricevuto l'ordine di ucciderla e quindi la necessità di annullare il rituale. È accusato di atti persecutori un trentasettenne di Casarano. La presunta vittima è una ventitrenne di Taurisano. La loro storia terminò per volere della donna il 31 dicembre del 2022 e l'uomo arrivò a minacciarla e insultarla pesantemente. La giovane lo bloccò da ogni social, poiché continuava a perseguitarla con telefonate, messaggi, sospetti continui che lei uscisse con altri ragazzi. Ora vedi cosa ti combino, li avrebbe scritto in una circostanza dopo aver insinuato di essere stato tradito. Nel febbraio scorso, il trentasettenne, dopo essersi procurato un'utenza telefonica dall'Africa occidentale, il cui prefisso è un più 229, si sarebbe spacciato per un maestro spirituale. avrebbe rivelato all'ex compagna di essere stato incaricato di ammazzarla da una persona vicino a lei e che per annullare il rituale si sarebbero dovuti incontrare. Al messaggio sarebbero state legate anche fotografie della ragazza e immagini più inquietanti di un paio di coltelli rivolti verso il suo volto. Siccome è articolata in tre fasi, bisogna comprendere quali siano gli effettivi momenti in cui il comportamento denunciato può essere di fatto adebitabile al mio assistito. Ho sentito già il collega che assiste alla persona offesa per poter poi individuare il percorso migliore per chiudere questa vicenda. In attesa dell'udienza preliminare prevista per il mese di luglio. Per oggi formalmente rispondiamo di atti persecutori aggravati dalla precedente relazione sentimentale. Era questo avvocato il servizio di cui le parlavo per fare un esempio, al di là del caso ovviamente specifico, di quanto adesso abbia un ruolo più importante quello appunto dell'avvocatura nel chiarire, nel anche avere una parte informativa e comunicativa che forse prima veniva lasciato in secondo piano col prevalere delle notizie che potevano arrivare anche dalle forze dell'ordine. Sì, l'avvocatura ha sempre avuto rivendicato un ruolo importante ed è un anello di congiunzione importante proprio nel momento in cui partono indagini che si ritengono essere meritevoli di notizie o mediante tv o mediante altri quotidiani sia online sia cartacei e quindi è giusto che l'avvocato dell'indagato in quel determinato momento contro cui l'opinione pubblica, diciamolo pure, punta l'indice senza sé, senza ma, spieghi quella che è la situazione, spieghi qual è il percorso nei limiti naturalmente di quello che può fare in ragione del segreto istruttorio e anche della delicatezza della posizione dell'indagato in quel momento e delle eventuali successive indagini difensive che si ritiene di effettuare per dimostrare o meno l'infondatezza. Ed è proprio questo il ruolo fondamentale e io parlo qui da avvocato naturalmente, quale contrappeso perché spesso vede, ci sono state delle vicende dove l'angolo visuale dal quale si è affrontata la vicenda, ne cito una importantissima che conosciamo tutti, ricorderemo tutti il clamore mediatico che c'è stato all'indomani della soluzione di una gran parte degli imputati nel processo di Rigopiano, dove anche, se non cito nessuno, un ministro prese una posizione particolare, mi limito a dire questo, addirittura definendo vergognosa quella situazione. Innanzitutto le sentenze vanno sempre rispettate, eventualmente impugnate e appellate o ricorse per Cassazione, perché è un provvedimento dell'autorità giudiziaria di un potere dello Stato. Ma non deve mai passare il messaggio, un messaggio che sarebbe veramente devastante per l'Italia, per un paese del diritto come l'Italia, che il processo funzioni e sia il trionfo del processo ci sia quando vi è la condanna e invece ci sia il naufragio del processo e del sistema processuale quando l'imputato viene ad essere assolto, perché non deve mai passare quel messaggio e qui naturalmente dobbiamo unirci tutti in un abbraccio ideale, anche voi che gestite la comunicazione, che l'imputato dichiarato innocente sia l'imputato che l'abbia fatta franca, che abbia trovato un bravo avvocato o che abbia trovato diciamo l'escamotage per riuscire ad evitare. Ci sono tanti casi in cui l'imputazione per una o più ragioni non riesce a reggere in giudizio ed è per questo che il giudice terzo ed equilibrato deve naturalmente pronunziare una sentenza di assoluzione. E questo io glielo dico direttore nella consapevolezza che l'arresto di un uomo è un marchio. Non vi è segno più tangibile di colpevolezza di quello di un uomo in manette. Spesso proprio il simbolo della colpevolezza deriva dall'arresto di un uomo e questo simbolo non viene neanche ad essere spazzato, ad essere neutralizzato da un'eventuale sentenza di assoluzione. E da allora è anche una questione, ripeto, proprio di cultura giuridica e una questione di cultura più in generale nel momento in cui ci si avvicina ad una determinata questione, ad una determinata notizia dove se da un lato vi può essere la persona offesa che è vittima del reato, dall'altro lato vi è l'indagato e poi eventualmente l'imputato che merita, ripeto, di essere trattato con la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, fino ad una sentenza definitiva di colpevolezza. Ecco, avvocato, tra le varie tematiche e tra le varie problematiche forse rimangono ancora in corso, perché la presunzione di non colpevolezza mette anche insieme per quelle notizie che vengono diffuse pubblica una necessità di una tempistica di una sentenza, perché le notizie rese pubbliche hanno poi la necessità di avere una soluzione di chiarezza, parlavamo adesso di sentenze sia di colpevolezza che di assunzione, spesso poi i tempi lunghi non aiutano anche l'imputato ad avere il giusto spazio, la giusta visibilità che magari è data nella notizia ma non è data poi nella sentenza finale. Sì, oggi nel 2023 abbiamo due tipi di reputazione di un uomo, abbiamo la reputazione quella della quotidianità, quella di quello che facciamo ogni giorno, lei qui come giornalista, io qui come avvocato, come uomini, come persone, poi vi è un'altra reputazione che ormai ha assunto un'importanza inimmaginabile fino a qualche anno fa ed è la reputazione virtuale, perché purtroppo il passaggio di una notizia fondata o infondata per il tramite delle piattaforme virtuali può essere devastante per una persona, per il suo equilibrio ed allora qui si parla da tempo del diritto all'oblio, lei lo conosce bene, sicuramente tante volte avrà avuto richieste di colleghi di deindicizzazione o di cancellazione di notizie o di precisazione quando l'imputato a suo tempo ha anche attinto da misura cautelare e poi stato per esempio assolto ed è una cosa importante, questo diritto all'oblio del quale oggi si parla ed è giusto che sia così, mi permetto di ricordarlo perché la mitologia ci insegna tanto, deriva proprio dal famoso fiumelete dove si immergevano le persone che tornavano a nuova vita ed è per questo che si parla tanto di diritto all'oblio e allora vi è sempre ad un peso, vi è un contrappeso, in Italia, lo ricordo a me stesso, io all'epoca ero un bambino di pochi anni, ma abbiamo casi importanti come quello di Enzo Tortora, uno scandalo di proporzioni inimmaginabili dove un uomo viene ad essere privato della sua dignità, consegnato all'opinione pubblica e con i forchettoni, ancora il DC Carra che viene ad essere prelevato e trasferito qui in carcere con i forchettoni come se fosse un delinquente pericolosissimo, quindi vi sono stati degli eccessi nella gestione di determinati casi e io, ognuno di noi nel proprio lavoro ha sempre delle stelle polari, io ricordo sempre ed è un passaggio che spesso vado a rileggere, è di un libro di Ignazio Silone che si chiama Uscita di sicurezza, molti di voi hanno letto, quando Silone piccolo vede un uomo cencioso con i forchettoni ai polsi tra due carabinieri e lo deride, ed il padre gli tira uno scappellotto, gli fa un rimbrotto e gli dice innanzitutto quell'uomo può essere innocente e poi quell'uomo oggi è un infelice, perché vede, la consapevolezza oggi è una che indipendentemente dall'esito del processo, qualunque esso sia, ed un uomo come me, una persona come me che fa l'avvocato crede sempre nella giustizia, è evidente, ma oggi la vera pena per l'imputato è il processo, il processo con le sue lungaggini, il processo con le sue, anche necessarie informazioni all'opinione pubblica, ed è per questo che occorre trovare un giusto bilanciamento, un giusto equilibrio rispetto al diritto sacrosanto dell'opinione pubblica di essere informato. E allora, come lei ben sa, come abbiamo già detto lo scorso anno, sono stati previsti anche dei rimedi per l'indagato che ritenga per esempio che vi sia stata la violazione della presunzione di non colpevolezza, possa agire nei termini di 10 giorni, quindi entro un termine breve, per chiedere a quel magistrato che avrebbe adottato quel provvedimento in violazione della presunzione di non colpevolezza, una rettifica. Devo dirle che io credo poco a questo rimedio, credo poco, mi sono informato in ragione anche della venuta qui, della chiacchierata in questo salotto con lei e con coloro che ci stanno dedicando la loro attenzione da casa, non mi pare che ci siano state tante iniziative in tal senso e mi pare che sia anche una scelta legislativa poco felice nel momento in cui si chiede nell'immediatezza successiva a quello stesso magistrato che avrebbe, secondo la difesa dell'indagato, violato la presunzione di non colpevolezza, di ritornare entro le 48 ore sui propri passi e quindi di rettificare la notizia. Quindi rimane sempre un campo delicatissimo, io dico sempre che tra una buona legge ed un buon giudice io preferisco sempre un buon giudice, perché le leggi vengono tradotte in atti, in sentenze dei giudici e quando noi abbiamo la fortuna come abbiamo, perché la magistratura italiana è una buona magistratura, io da avvocato Brindisino, da avvocato Salentino sono fortunato ad operare in un'oasi, devo dire di giustizia dove ci sono dei magistrati attenti, dei magistrati equilibrati e naturalmente il mio ragionamento, il mio giudizio non deve essere condizionato e non può essere condizionato dall'esito di un determinato processo, perché sarebbe troppo semplicistico ridurre tutto a quello, è evidente che un avvocato nel momento in cui assume la difesa di un indagato o di un imputato è ben consapevole in determinati casi di poter andare incontro ad una sentenza di colpevolezza, ripeto, sentenza che può essere impugnata ma sentenza che non va mai tacciata di vergogna come è successo, dicevo Pocanzi per esempio per il caso di Rigopiano. Io ringrazio l'avvocato Antonio Andrisano per essere stato con noi anche quest'anno con l'impegno che non ce ne occuperemo solo in questa giornata mondiale ma un tema che tratteremo perché purtroppo tocca a tanti cittadini nel bene o nel male, poi nei vari casi che vengono disputati ma che è un tema che tocca comunque, come dicevamo prima, in apertura e concludiamo con questo concetto, con il senso civico e sociale da parte di tutti noi, dai cittadini agli organi di informazioni e agli organi di giustizia. Grazie avvocato. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Noi ci vediamo per un breve break, poi torniamo in onda con la seconda parte del nostro approfondimento mattutino. Torniamo in studio per la seconda parte del nostro approfondimento mattutino, per chiudere però quello che avevamo detto nella prima parte approfondito con l'avvocato Andrisano, andiamo a guardare quello che è successo a Martina, proprio per ricordare la giornata mondiale della libertà di stampa. Due iniziative per celebrare la giornata mondiale per la libertà di stampa. A Martina Franca, Palazzo Ducale, un evento formativo dal titolo Diritto di Cronaca e Querele Temerarie, promosso da Sostampa Puglia e aperto al pubblico. Al centro della discussione, il limite tra il diritto di critica e la diffamazione, analizzato dal punto di vista delle ultime sentenze della magistratura. Un'occasione per dibattere sull'utilizzo dello strumento della querela, spesso abusata, e i risvolti in termini di libertà di stampa e di critica, alla luce dei cambiamenti della professione. Tra i relatori, il collega Vito Giannulo, vice caporedattore della TGR della Puglia, Francesco Maccagnano, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, e l'avvocato penalista Francesco Zaccaria, assieme al giornalista Gianni Svaldi. Il secondo evento, sempre a Palazzo Ducale, ha visto la presentazione del volume Il B.A. dell'informazione. Il libro è una raccolta di saggi sul rapporto tra informazione e democrazia, curato da Massimiliano Martucci. Perché riteniamo fondamentali i temi del pluralismo, della libertà di stampa, della libertà di espressione, quindi credo che sia un doveroso da parte di un ente pubblico patrocinare e sostenere questo tipo di iniziative a tutti i livelli di informazione. Perché, ripetiamo, è un argomento che riguarda assolutamente tutti. E questo riguardante, come dicevamo, la giornata mondiale della libertà di stampa che abbiamo trattato nella prima parte. Fra poco ci soffermeremo invece sul tema sanitario, medicino, con un importante congresso che verrà svolto il prossimo 11 e 12 di maggio nel territorio brindisino sulla chirurgia del pancreas. Ma parliamo sempre di sanità, andando nella sanità brindisina. Ieri assemblea dei sindacati che hanno fatto il punto sulle criticità e hanno annunciato la mobilitazione che potrebbe portare allo sciopero. I dipendenti della asla di Brindisi alzano la voce. La sanità brindisina è in ginocchio e non si intravedono spiragli di luce, spiegano le organizzazioni sindacali, dopo le numerose criticità registrate negli ultimi mesi. Non solo carenza di personale, ma anche disorganizzazione nelle strutture. Oggi i lavoratori si sono riuniti in assemblea sindacale. La protesta è mira, siccome siamo convinti che si mira alla chiusura dell'ospedale, l'ospedale di Francavilla, l'ospedale di Ostune e anche Brindisi può diventare l'ospedale di secondo livello o primo livello, siamo costretti a dichiarare una maggioranza di proteste di sciopero perché il personale prima o poi si troverà in difficoltà. Non ci sono medici, mancano gli infermieri, non ci sono gradatori per la sostituzione anche delle malattie lunghe. È un momento difficilissimo e la proiezione non è delle più belle. Noi oggi anche per senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e dei cittadini del territorio di Brindisi stiamo manifestando. Continueremo, non ci fermiamo, arriveremo a uno sciopero. Sicuramente a seguito di questa assemblea decideremo il da farsi. Non ci fermeremo perché lo sta anche oggi stesso. Abbiamo chiesto l'intervento dei giornalisti durante l'assemblea. Ci è stato anche vietato da parte delle direzioni strategiche. Noi siamo fortemente preoccupati perché vediamo il sistema sanitario pubblico in terra di Brindisi che va sgretolandosi giorno dopo giorno. Non intravediamo nessun tipo di contrapposizione, nessun programma valido e quello che è peggio è che poi le parti sociali, le organizzazioni sindacali sono completamente snobbate. Restiamo sempre nel tema sanitario. Andiamo a Lecce dove è stato osservato un minuto di silenzio per i medici vittime di aggressione. Un monito importante che viene lanciato dagli operatori del settore. Violenze fisiche e verbali che non sono più tollerabili. Così l'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri della provincia di Lecce insieme all'ordine delle professioni infermieristiche hanno preso una ferma posizione dopo l'ennesimo episodio costato la vita alla dottoressa Capovani. In tutta la provincia alle ore 12 è stato osservato un minuto di silenzio non solo per esprimere vicinanza a tutti i professionisti sanitari vittime di violenza ma soprattutto per testimoniare con forza che non sopportano più simili atti. Violenze ne subiamo continuamente. Se noi mettiamo quelle verbali, mettiamo le minacce, mettiamo quelle fisiche purtroppo veramente sono quotidiane. Purtroppo non denunciate se non in casi molto rari. E questo è qualcosa che l'ordine dei medici sta cercando di controvertire perché è evidente che solo la denuncia può dare la solidarietà di tutti ma soprattutto il supporto di dati che ci occorrono intanto per aprire delle azioni legali perché la legge prevede pene anche pesanti contro chi si macchia di questa infamità. Per questo l'ordine torna a chiedere l'intervento dalle istituzioni, la presenza dalle forze dell'ordine nei punti critici, l'applicazione delle norme legali e a chi ha il compito di organizzare la sicurezza del lavoro, ASL e dirigenti preposti di perseguire attraverso provvedimenti organizzativi le norme di sicurezza per dipendenti e convenzionati ma soprattutto serve un impegno culturale. Occorre una formazione culturale nei confronti dei cittadini perché quando si è di fronte ad un medico, quando si è di fronte all'infermiere si è di fronte a professionisti che cercano di curare. Non si può rispondere con un atto violento. Torniamo in onda, come dicevamo, rimaniamo sul tema sanitario. Fra pochi istanti saremo collegati con il professore Marcello Spampinato primario di chirurgia oncologica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce che è appunto tra gli organizzatori del convegno che appunto si terrà come abbiamo già detto l'11 e il 12 maggio presso tenuta Moreno di Mesagne con un tema molto importante della chirurgia del pancreas insieme al dottore Riccardo Memeo. Vedo pronto il professor Spampinato. Buongiorno professore. Ti buongiorno. Allora, dicevamo professore, un appuntamento molto importante sia per il tema appunto la chirurgia del pancreas sia anche per l'ambito perché sarà internazionale e quindi vedrà al centro un dibattito formativo e di confronto che sappiamo in medicina è fondamentale per progredire e trovare soluzioni sempre nuove e migliori per i cittadini. Sì, appunto questo è un convegno internazionale importante fortemente voluto dalla nostra attività, dalla nostra pancreas unit avviata già deliberata nel 2021, credo la prima in Puglia che si occupa a 360 gradi e in maniera multidisciplinare del trattamento delle neoplasie del pancreas. Un convegno che vedrà appunto a confronto vari specialisti ed esperti sia di caratura nazionale ma soprattutto internazionale, europea e anche statunitense a confronto per parlare delle ultime e più recenti frontiere del trattamento delle neoplasie del pancreas con un particolare focus su quelli che sono i trattamenti mini-invasivi laparoscopici e robotici che oggi sono di uso abbastanza comune anche nel nostro territorio. Infatti da circa un anno abbiamo avviato un programma di chirurgia robotica delle neoplasie del pancreas che consente ai cittadini del Grande Salento di poter, qualora avessero patologie di questo tipo, soffrire di trattamenti all'avanguardia. Il suo reparto sicuramente rappresenta una eccellenza riconosciuta per il territorio, non solo ovviamente salentino ma anche pugliese italiano e avere un punto di riferimento che vede la presenza appunto fisica come sarà in questo convegno di attori internazionali e anche comunque un motivo di orgoglio perché questo territorio spesso tra le difficoltà che ovviamente non possiamo negare esistono del sistema complessivo sanitario può e deve essere un punto di riferimento anche di eccellenza. Assolutamente sì ed infatti c'è un impegno da parte costante sia a livello delle varie aziende sanitarie ma devo dire anche a livello regionale di costituire dei gruppi di studio che portino avanti dei PDTA, quindi dei percorsi diagnostico-terapeutici che possano indirizzare i pazienti qualora siano affetti da queste gravi patologie. Questo è stato il motivo per cui si è voluto fortemente che il congresso non venisse fatto a Lecce, seppur organizzato a Lecce ma venisse fatto in un ambito che comprendesse il grande salento quindi Brindisi, Taranto e Lecce, quindi si è scelto Mesagne proprio per dare l'idea che appunto quello di cui ci occupiamo non ce ne occupiamo per Lecce ma ce ne occupiamo appunto per un territorio ben più vasto. E proprio il Fazzi di Lecce ha un pancreas unit, un tema sicuramente specifico molto importante e proprio per questo rappresenta anche un'opportunità non solo di ascoltare e ricevere quello che arriva soprattutto dai colleghi dall'estero ma anche di fornire degli spunti di dibattito, di crescita e di ricerca. Sicuramente questo sarà un momento di confronto con degli spunti che porteranno a una crescita sia appunto del nostro gruppo ma anche a degli spunti per delle ricerche legate anche al recente avvio della facoltà di medicina a Lecce, delle varie prospettive di ricerca che ci potranno essere anche in collaborazione con i colleghi delle varie università nazionali ed estere nel campo appunto dei tumori del pancreas. Quindi sicuramente un momento proficuo di confronto ma anche un momento in cui si parlerà di formazione, della formazione dei futuri medici che si dovranno occupare sul campo di queste patologie di come deve essere la formazione per arrivare a ottenere l'eccellenza e i risultati migliori. Ecco, professore in conclusione diciamo anche un motivo anche di orgoglio personale lei è un giovane medico, comunque professore, primario di un riparto importante e delicato anche per il tipo di trattamenti che andate a vivere ed effettuare e sicuramente organizzare un evento così importante rappresenta un orgoglio che sicuramente come dicevamo personale ma che rappresenta un orgoglio anche per la medicina salentina e pugliese. Sicuramente è il punto di arrivo di un percorso che abbiamo iniziato circa 5 anni fa e che ci ha visto progressivamente crescere con l'apporto di vari professionisti con l'acquisizione progressiva di tutte le competenze che servivano per poter appunto fornire un servizio di qualità al pari dei centri del Nord Italia o esteri che si occupano di queste patologie. Devo dire grazie anche al supporto della direzione strategica che ci ha saputo fornire nel tempo di tutte le necessità e le tecnologie che servivano per poter affrontare questo tipo di percorso. In conclusione ricordiamo quindi l'appuntamento lo faccio fare a lei l'11 e il 12 maggio per questo congresso internazionale sulla chirurgia per il pancreas. Sì, 11 e 12 maggio presso la tenuta Moreno con iscrizione ovviamente per gli operatori sanitari quindi medici, chirurghi, oncologi, anatomopatologi ma anche il comparto infermieristico e poi anche la possibilità di poter seguire online l'evento visto l'elevata richiesta di iscrizioni che abbiamo avuto. Grazie al professore Marcello Spampinato primario del reparto di chirurgia oncologica del Vito Fazzi di Lecce ci piace anche dare, tante volte purtroppo il nostro mestiere ci porta a trattare tematiche diverse dal punto di vista sanitario e delle sue difficoltà e quindi è importante però sottolineare anche i risultati positivi e di eccellenza quindi per questo ci vedremo anche in quelle giornate per raccontare e testimoniare questo importante congresso. Grazie professore, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci, buona giornata. Cambiamo decisamente argomento perché dovremmo essere pronti a collegarci con Taranto con la collega Laura Milano con il quale parleremo del palio di Taranto ormai imminente che seguiremo in diretta come ogni anno da Antenna Sud che si lega alle festività di San Cataldo vedo proprio pronta sul lungomare di Taranto Laura Milano una bella giornata di sole finalmente Laura che ci permette di presentare questa iniziativa tanto sentita dal territorio tarantino Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Davide anche oggi vi parlo dal Castello Aragonese di Taranto perché oggi è una giornata importante sarà presentata una delle manifestazioni sportive più importanti e identitarie della città e che tra l'altro vede il patrocinio come sempre della Marina Militare ecco perché ci accoglie il Castello Aragonese parliamo del palio di Taranto, della storica regata in barca a remi fra i dieci rioni della città ovviamente non sarò io a parlarvi di tutto questo perché ho con me un ospite veramente importante abbiamo con noi il patron di questa manifestazione Francesco Simonetti, buongiorno, benvenuto ad Antenna Sud Buongiorno a tutti, buongiorno Allora oggi all'interno del Castello Aragonese sarà presentata questa edizione edizione 2023 del palio di Taranto un evento storico, come dicevo, identitario per la città che edizione sarà questa? Sicuramente un'edizione particolare come tutte quelle dell'8 maggio perché questo evento si inserisce nei festeggiamenti del comitato di San Cataldo e quindi l'8 maggio per noi è una data importante perché intanto il palio è stato ideato e creato proprio in occasione dei festeggiamenti della città di Taranto all'8 maggio mancava un evento marinaro a Taranto ci abbiamo pensato noi e quindi abbiamo riportato alla luce questa antica tradizione che è quella del remo e stamattina presentiamo questo evento che è caratterizzato da una novità che è quella che comunque la statua di San Cataldo sbaccherà proprio qui al Castello Aragonese quindi noi del palio dovremo anticipare di qualche minuto la gara del periplo della città vecchia e poter far sì che tutto avvenga nel modo più fluido possibile si inserisce in questo contesto dove il parco naturale come sempre è stato è quello del canale navigabile con Corso Due Mari che sarà gremito di gente sempre sempre molto gremito tra l'altro il palio di Taranto Davide per te che non sei di Taranto è un evento molto bello perché la città si riunisce ecco perché dicevo identitario riunisce la città e non solo perché attrae anche i cittadini provenienti insomma dalle turisti e persone provenienti insomma da altre città e non solo pugliesi perché è un evento sportivo oltretutto quindi per gli amanti di questo sport diventa un appuntamento fisso diciamo allora se Francesco mi aiuta con le immagini io vorrei mostrarvi questo insomma il canale navigabile perché Francesco Simonetti è da qui insomma che partirà tutto come ogni anno certo qui praticamente alla fine di questo canale ci saranno le 10 imbarcazioni spero perché chiaramente c'è la giuria che deve convalidare la partenza si fa il giro dell'isola e l'arrivo sarà proprio qui in allineamento a questa bellissima scalinata del Castello Aragonese come ha detto lei 10 equipaggi che rappresentano i 10 rioni storici della città perché prima Taranto era suddivisa in 10 circostruzioni e quando noi abbiamo ideato il Palio abbiamo pensato proprio a questa diciamo a questo abbinamento che serviva proprio anche per promuovere i quartieri della città poi è cambiata un po' la storia e le circostruzioni non esistono più Che cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Cosa ha notato di diverso nelle varie edizioni? Decisamente l'affluenza del pubblico perché noi siamo nati in Sordina nel 1986 quando probabilmente nessuno scommetteva su questo evento qua poi nel corso dei quasi 40 anni abbiamo fatto sì che il Palio diventasse non solo un evento sportivo ma anche trainante per la città in termini sicuramente turistici tant'è vero che abbiamo tantissime prenotazioni per questo evento che poi la prenotazione non esiste perché abbiamo il canale navigabile ma abbiamo tutto il lungomale che circonda l'isola quindi si può vedere tranquillamente la gara è la cosa più bella senza pagare nessun biglietto E soprattutto, diceva, senza pagare nessun biglietto soprattutto Davide sai benissimo che Antenna Sud seguirà integralmente questa importante competizione questo importante evento Allora parlavamo di ciò che è cambiato nelle varie edizioni invece per ciò che riguarda le generazioni perché poi sulle barche in realtà cosa succede? Vanno a gareggiare i figli di coloro che hanno gareggiato in passato ovvero come si svolge? Sicuramente, anche se i genitori, come dice lei fanno di tutto per continuare a farla questa gara tant'è vero che abbiamo comunque delle persone che hanno già superato i 50 anni però sono così legati che non vogliono mollare questo bellissimo evento ci sono dei ragazzi che si sono affiancati oggi avremo sicuramente un paio di giovani ma la cosa più bella, ripeto, di questo palio è che comunque abbiamo tantissime collaborazioni in primis la Marina Militare veramente che da tantissimi anni forse proprio dalla prima edizione collabora per la realizzazione e la buona riuscita dell'evento oltre ovviamente a tante altre istituzioni che si affiancano a noi che danno la possibilità soprattutto agli equipaggi di fare la gara in tranquillità tipo anche la Guardia di Finanza la Capitania di Porto che comunque ha un valore aggiunto proprio su questa edizione perché dà sempre il consenso e il permesso per poter realizzare questo evento è vero, è vero un doveroso ringraziamento sempre sempre va fatto alla Marina Militare che è sempre disponibile apre sempre i suoi siti insomma per gli eventi più importanti della città la cittadinanza, il castello l'abbiamo detto proprio giorni fa è sempre visitabile tutti i giorni anche nei giorni festivi e soprattutto la Marina Militare è anche sempre molto disponibile verso Antenna Sud perché accoglie con estrema gentilezza le nostre telecamere allora noi abbiamo voluto dare una piccola anticipazione a quanti seguono a quanti cominciano le loro giornate Davide con la nostra informazione su quella che è l'edizione 2023 del Palio di Taranto più tardi noi Davide seguiremo anche la conferenza stampa con il patrono Francesco Simonetti e quindi ulteriori informazioni su questo importante evento saranno fornite nelle prossime edizioni del nostro telegiornale se tu non hai domande io sì diamo una chicca aspetta aspetta un attimo il Palio di Taranto dal 1986 ad oggi non si è mai fermato neanche quando c'è stata il Covid e la pandemia siamo riusciti a fare sempre l'evento e quindi questa è una cosa importantissima per la città perché un evento che sia importante debba avere comunque una continuità e noi del Palio ce l'abbiamo ecco questo è molto importante ci ha tenuto compagnia è vero anche durante l'edizione c'è stata anche l'edizione 2020 è vero allora Davide se al momento tu non hai domande io ti restituisco la linea e per i nostri telespettatori dimmi sì sì no riprendo la linea perché come sai siamo al ridosso della pubblicità e ricordo l'appuntamento che seguiremo appunto della conferenza stampa ma soprattutto quello dell'8 maggio alle ore 17 per il Palio di Taranto che precederà la processione in onore di San Cataldo e come hai anticipato tu seguiremo in diretta questo momento particolarmente suggestivo grazie a Laura Milano per il collegamento da Taranto e ovviamente al tuo ospile grazie a te Davide noi ci fermiamo per un breve break pubblicitario poi rientriamo per l'ultima parte del nostro approfondimento mattutino ultima parte del nostro approfondimento mattutino fra poco ci collegheremo con la presidente della Confcommercio di Brindisi Annalita Montanaro ma prima facciamo il punto sulla giornata politica nazionale andiamo a Roma dal nostro inviato Manigrasso per fare appunto il punto sulle tematiche delle ultime ore soprattutto dal punto di vista politico e dello scontro tra maggioranza e opposizione Il taglio del cuneo fiscale nel decreto lavoro non è sufficiente per le opposizioni da Renzi a Conte passando per Schlein che si aspettavano dal governo una misura strutturale Questo aumento è solo per 5 mesi non recupera tutto il potere d'acquisto perso con l'inflazione e peraltro non si accontezza come potranno essere confermati questi aumenti e più gli aumenti fatti già dal governo Draghi a partire del primo gennaio del prossimo anno e quindi non vorremmo che fosse soltanto un'operazione propagandistica Ma per l'esecutivo anche un piccolo aumento in busta paga è una risposta concreta all'inflazione Con le carte si può giocare ma carta canta lo dico anche al mio amico Matteo Renzi perché 4 più 4 fa 8 non è che non fa non è che ci si può dimenticare di quello che abbiamo approvato nella legge di bilancio 2023 e dire che c'è solo quello da giugno tutte le volte che noi abbiamo una risorsa a disposizione la concentriamo su un obiettivo fondamentale che per noi è quello di ridare potere d'acquisto agli stipendi A preoccupare le opposizioni oltre alle modifiche al reddito di cittadinanza anche i contratti a termine restano sempre 24 mesi ma cambiano le causali diventando meno stringenti per la ministra del lavoro però non si verificherà nessun aumento della precarietà Questo governo ha introdotto un concetto pericolosissimo la modalità ordinaria con cui le persone lavorano è quella precaria aumento del precariato reintroduzione forte dei voucher e poi parlano di denatalità per aiutare le famiglie a fare figli serve il lavoro stabile e serve il salario minimo orario Fa specie un politico che si lamenta se utilizziamo delle risorse appunto per pagare di più chi lavora anziché dare i soldi a chi resta in pantofole davanti al divano basta l'avevamo detto l'avevamo promesso l'abbiamo realizzato basta il reddito di cittadinanza per chiunque che è abile al lavoro vada a lavorare E come avevamo anticipato siamo pronti a collegarci con Anna Rita Montanaro presidente della Conf Commercio di Brindisi Buongiorno presidente Buongiorno a voi Allora ti abbiamo fatto intervenire per fare il punto su un incontro che c'è stato ieri proprio nella sede della Conf Commercio riguardante le associazioni sportive un tema che all'apparenza può sembrare scollegato dall'attività della Conf Commercio che invece ha tante ramificazioni tra cui quella sportiva in particolare legata alle opportunità di finanziamenti Esattamente l'incontro di ieri è stato un incontro tra l'altro che è stato ben accettato dalle associazioni sportive c'è stata una bella presenza è un incontro che è stato organizzato grazie alla regia e questo lo devo dire del mio vicepresidente Gianni Corciulo che è il delegato al credito e di Giulio Corciulo che è il delegato alle convenzioni è stato il primo dei altri incontri che ci saranno e che porteranno alla costituzione di un sindacato per la Conf Commercio di Brindisi proprio per le associazioni sportive è un percorso di crescita che stiamo mettendo in campo tra le associazioni sportive e la sinergia quindi anche con le aziende e con gli esercenti Anche perché Presidente siamo in una fase particolare di passaggio perché tra il primo luglio entrerà in vigore una nuova norma che toccherà proprio le attività delle società sportive Esatto dal primo luglio ci sarà la riforma dello sport ci sono ancora degli argomenti in discussione non sono stati ancora definiti con certezza alcuni termini e proprio questo è stato anche uno degli argomenti che abbiamo trattato ieri l'importanza di informare e di formare le associazioni sportive proprio per questo diamo e abbiamo dato la disponibilità innanzitutto alle nostre sale convegni alla possibilità di poter utilizzare le nostre sale convegni e anche il fatto stesso di avere noi a brevissimo a strettissimo giro uno sportello per lo sport dove ci sarà la possibilità di informarsi sulla fiscalità informarsi e formarsi su ciò che prevede la riforma dello sport e non solo e le possibilità di accesso al credito abbiamo aperto un canale diretto con il credito sportivo proprio per la richiesta di accesso al credito per le SD e per le SC e ieri come dicevo ci sono stati delle persone dei referenti e dei professionisti che hanno rassicurato e allo stesso tempo preoccupato le associazioni sportive per dire di prepararsi per tempo per queste novità anche perché Presidente in una fase di cambiamento così delicata e anche di necessità in alcuni momenti di confronto anche a livello istituzionale e nazionale avere l'appoggio e l'organizzazione di una struttura che è locale nel confronto ma nazionale anche nel confronto come la Confcommercio è un'opportunità importante è un'opportunità che abbiamo spiegato più volte e che continuiamo a dire non solo con le associazioni sportive ma con tutto il mondo dei sindacati noi abbiamo una relazione diretta con le amministrazioni locali provinciali regionali e nazionali siamo sui tavoli dove vengono prese le decisioni quindi è importante che le associazioni sportive non solo si facciano affiancare e tutelare e supportare soprattutto dalle associazioni di categoria Confcommercio Brindisi in questo lo sta già fatendo da tempo e lo farà adesso anche per le associazioni sportive ripeto ieri c'erano diversi attori tra cui c'era anche Massimiliano Zanzarella che è il presidente del comitato sportivo della provincia di Brindisi il 2 giugno ci sarà un evento formativo in Confcommercio Brindisi proprio insieme a Massimiliano Zanzarella c'era anche Fabiola Monaco perché abbiamo parlato anche di assicurazioni sportive tra le convenzioni che abbiamo messo in campo ci sono anche appunto le assicurazioni sportive e quindi abbiamo fatto sì che tutti gli argomenti potessero già essere iniziati e affrontati con un percorso che come vi dicevo prima proseguirà nel tempo tra 15 giorni ci sarà un incontro un nuovo incontro dove appunto verranno costituiti i sindacati e gli organi di questo sindacato dello sport con Confcommercio Brindisi Ecco Presidente non posso non cogliere l'occasione della tua presenza anche per fare un po' il punto sulla situazione delle aziende del commercio Brindisino e non solo in questa fase di passaggio prima abbiamo sentito il servizio da Roma sui temi del cuneo fiscale le difficoltà i provvedimenti anche del governo qual è ad oggi lo stato di salute? Ad oggi lo stato di salute non è ottimale chiaramente usciamo ricordiamocelo da un periodo di pandemia è vero che è passato da un po' però è vero anche che soprattutto in alcune città c'è ancora il problema della desertificazione di portare alcune strutture alla destagionalizzazione perdonatemi quindi è importante che ognuno di noi ogni associazione di categoria dia il supporto alla città e agli imprenditori per far sì che anche gli strumenti che si possano utilizzare vengano utilizzati gli strumenti di accesso al credito sono importantissimi ed è importantissimo che noi in prima azione come Confu Commercio Brindisi ma anche gli imprenditori comincino ad avvicinarsi a questo mondo di accesso al credito facendosi come dire capendo che è importante muoversi anche in questo ambito poi a livello nazionale spero che ci venga un supporto maggiore a livello regionale a breve ci saranno delle novità e quindi penso che saranno gradite anche dalle piccole e medie imprese ecco Presidente ci avviamo ovviamente alla fase estiva perché per il territorio pugliese e anche Brindisino è sempre una opportunità di presenza turistica e di economia per il territorio spesso però si è parlato delle difficoltà organizzative ad arrivare ad affrontare questo appuntamento siamo ormai già nel mese di maggio e sicuramente ancora si è un po' in ritardo da questo punto di vista cosa manca cosa serve per far arrivare Brindisi pronta alla fase estiva quello che possiamo dire è che sicuramente il mondo della comunicazione ha aiutato e migliorato e continua a migliorare le richieste turistiche per la Puglia e per la provincia di Brindisi Federalberghi e lo stesso Pierangelo Argentieri Federalberghi fa parte di Commercio Brindisi Federalberghi sta registrando comunque delle ottime risultati e delle buone richieste delle ottime richieste per le strutture ricettive dall'altra parte insieme anche al Comune di Brindisi infatti ci sarà lunedì se non ricordo male un incontro insieme a Demma Taveri dall'altra parte stiamo combattendo contro l'abusivismo e le strutture ricettive che non sono a norma che non sono regolamentate è importante quindi che il turista che viene venga ben accolto che ci sia l'accoglienza che la Puglia e la provincia di Brindisi riesce sicuramente a dare qualitativamente stiamo migliorando tantissimo possiamo fare di più però abbiamo delle ottime risposte in questo senso e la ConfCommercio si è anche resa protagonista in vari momenti dell'anno anche di presenza in piazza di iniziative che possano appunto movimentare rendere anche presente i cittadini e quindi anche il commercio anche questo in linea con quello che dicevi poco fa è fondamentale nella sinergia per creare poi quelle opportunità che possono creare economia l'abbiamo fatto continueremo a farlo perché è chiaro che lì dove c'è una riqualificazione del territorio dei centri urbani è chiaro che tutti ne beneficiano è chiaro che ognuno di noi deve fare il suo un esempio importante che sarà futuro prossimo abbastanza anche vicino è la Coppa del Mediterraneo di Scherma Under 23 che verrà ospitata nella città di Brindisi e che dare la possibilità a tutta la provincia di Brindisi di beneficiare di questo evento ci saranno 27 nazioni che verranno a Brindisi e che avranno la possibilità di apprezzare turisticamente e anche a livello sportivo grazie come dicevo prima alla Coppa del Mediterraneo alla Federazione di Scherma all'Ame Azzur a Federalberghi alla Scuola abbiamo fatto un comitato insieme all'amministrazione comunale di Brindisi che dia la possibilità a questo evento di essere un evento vivo che dia vita alla città di Brindisi che dia vita tutta la provincia di Brindisi perché chiederemo un supporto a tutti alle aziende alle amministrazioni alla provincia per far sì che sia una settimana dello sport dal 20 al 22 ottobre ci sarà questo contest ma tutta la settimana speriamo che sia un momento importante affinché Brindisi sia la città dell'accoglienza la provincia di Brindisi sia la città dell'accoglienza grazie grazie a Anna Rita Montanaro presidente della Conf Commercio di Brindisi e buon lavoro grazie a voi buon lavoro siamo in conclusione del nostro approfondimento mattutino io vi ricordo fra poco parte mattina sud con Gianmarco Sansolino per fare ancora di più compagnia ai nostri telespettatori e approfondimento delle notizie del tutto il territorio della Puglia e della Basilicata ovviamente poi dalle 13 e 15 torna l'informazione prima regionale e poi l'informazione locale di tutte le province del territorio pugliese fino alle ore 15 con l'edizione sportiva del nostro telegiornale grazie per averci seguito e continuate a seguire la nostra programmazione rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia e Basilicata di Puglia di Puglia di Puglia